Prima di iniziare vi dico che non è un video critica ma informativo. Ciao ragazzi. Oggi vi faccio vedere questo. Si lo so è cringe essersi detto di avere 15 anni quando giochi a Fortnite falso ma ok. Ma cosa cacchio insulti se sei una VGF. Se fossi in te andrei a chiesa per confessare i miei peccati. Cacchio ma fatti una vita e non stare a vedere quel grasso e che augura la morte e bestemmia. Vabbè ragazzi comunque se questa bambina vi insulta non dategli filo. Dategli un cazzotto ah ah vabbè ciao.